Ciao a tutti, sono Lorenzo Nicoletti, nato il 6 gennaio 1996, vengo da Genova, ruolo guardia alla piccola, io sono quel tipo di giocatore che cerca di dare sempre il massimo in campo e si rende il più disponibile possibile per il bene della squadra, questa è la mia prima esperienza in un campionato di un certo livello come la Serie B quindi cercherò di fare tutto il possibile per dimostrare qualcosa, invito tutti i tifosi a seguirci e supportare la squadra durante questa stagione di Serie B perché credo che possiamo raggiungere grandi obiettivi e grandi risultati e quindi vi aspettiamo numerosi al palazzetto